Buongiorno e benvenuti a Sette in Punto. Continuiamo ad occuparci del rapporto del cittadino con le banche, come ci si difende ma anche come capire le regole a cui sono soggette anche per darci prestiti mutui per la gestione del nostro conto corrente. Perché effettivamente non è che gli istituti bancari si inventino delle clausole vessatorie, c'è tutta una contrattualistica abbastanza complessa, abbastanza complicata. Certo la situazione economica non rosea e facilita i contenziosi. Ci siamo occupati in altre puntate di Sette in Punto di quelli che sono gli aspetti di un contenzioso in sede civilistica. Adesso vogliamo affrontare con l'avvocato Giorgio Dei, stravvocato del Foro di Padova, quali possono essere invece i risvolti penali di contenziosi con le banche. Buongiorno e ben ben noto. Innanzitutto, per non mettere la croce ad osso alle banche, perché io faccio un po' l'avvocato difensore in questa sede, insomma il giornalista fa sempre un po' la controparte dell'ospite, le banche comunque agiscono in un perimetro che deve essere un perimetro di legalità, cioè ci sono delle regole, dei controlli, delle garanzie. Se poi penso magari alle due banche popolari che in questo momento sono in difficoltà, mi chiedo come abbiano fatto a fare delle cose per cui oggi si dice dalla Consob non si potevano fare. Insomma, volevo capire qual è il margine di libertà operativa in uno schema più ampio, tanto per capirci dove sta il colpevole. Allora, la questione è complessa. Se parliamo di usura, si rientra in una normativa che poi approfondiremo un attimino. Normativa che vale per tutti, vale per il privato, vale per le banche, vale per altri istituti finanziari, ed è una normativa molto precisa che non fa favori a nessuno, nel senso che anzi il fatto che sia una banca eventualmente a commettere il reato di usura è una circostanza aggravante, quindi da un anno a sei anni che è prevista come pena per chi fa l'usura, se è una banca a farlo la pena è aggravata. Il motivo in più è per essere tranquilli sul fatto che il legislatore ha tenuto conto anche della posizione della banca, che è una posizione di forza, è una posizione privilegiata. Che cos'è l'usura bancaria come reato penale? Quando si verifica l'usura bancaria? L'usura bancaria non è diversa dall'usura generale. L'usura generale oggi come oggi è disciplinata, lo era anche prima dal codice penale, il codice detto codice Rocco, è disciplinata, dicevo, da una normativa che ormai è compiuto pochi giorni fa, vent'anni, è sempre una normativa comunque in vigore, non neanche mai stata modificata, una legge direi per quello che è emerso in questi vent'anni di applicazione nei tribunali, una legge fatta bene e quindi è il punto di partenza. Ma c'era un tetto? Ha fissato un tetto quella legge di vent'anni? Questa legge dice che siamo nel campo dell'usura, cioè c'è l'usura, è un reato, nel momento in cui sono praticati degli interessi che superano il cosiddetto tasso soglia. Cos'è il tasso soglia? Il tasso soglia è quel tasso che ogni tre mesi viene pubblicato nella gazzetta ufficiale, quindi a parte che non si trova anche in Google, ma comunque è il Ministero delle Finanze che pubblica il tasso di riferimento e lo pubblica dopo aver concordato, fatto fare gli opportuni accertamenti sia dall'ufficio italiano Cambi sia dalla Banca d'Italia. Quindi è un tasso soglia che è variabile? È variabile sia nel tempo ma anche e soprattutto in relazione alle categorie di esame. Cioè non è che il tasso soglia, innanzitutto poi il tasso soglia oltre il quale siamo nell'usura, è il tasso medio, quello che viene definito il Teg, aumentato del suo 50%. Ma faccio un esempio perché altrimenti non è facile seguirmi. Ipotesi, il Ministero pubblica nel mese di aprile delle tabelle dove dice per i mutui per l'acquisto di immobile il tasso medio applicato è del 10%. Se una banca applica il 16% siamo nell'usura perché si supera del 50%. Fino al 15% siamo ancora dentro la previsione di non reato. E se mi fanno il 5% devo preoccuparmi che ci sia qualche clausola che possa penalizzarmi nel momento in cui, non lo so, ho un rovescio e quindi mi portano via la mia casa e anche quella di tutti i miei parenti fino alla dodicesima. Se al 5% lo succede di sicuro. No, penso che sia abbastanza difficile. Ma allora lei ha parlato di un 10%, però mi perdoni. Ho fatto l'esempio. Sì, sì, no, 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 però mi perdoni. Questo per capire quando magari ci sono degli annunci, pensiamo anche quando uno compra una macchina a rate, eccetera, e uno non sente mai il tasso 10%, sempre sempre 5, 4, 6, 7 più, tag. Ecco, bisogna anche far chiarezza che quelle cifre sono cifre magari a cui vanno aggiunti altri elementi, poi alla fine magari il tasso complessivo arriva al 10%. Qua interviene la legge a precisare, dicevo prima, una legge fatta anche bene, non sempre le sono fatte bene, questa è fatta bene. Quindi c'è una legge fatta bene. A quello che è l'interesse si aggiungono però anche quelle specie che non possono essere messe in conto, tra virgolette, e faccia un elenco analitico in questa legge, appunto la legge 108 di vent'anni fa, vale a dire del 2096. Che magari... Del 1996. Se dobbiamo fare degli investimenti oppure del... Dargli una letta non fa male, no, questa legge 108, oppure rischiamo di non capirla? Ma è abbastanza semplice, è abbastanza semplice, invece la parte difficile è fare i conti, fare i conti con la cagolatrice, vi è da dire però anche un'altra cosa, ci sono dei siti che li ho scoperti anche poco tempo fa, in genere si va dal commercialista specializzato nel fare questo tipo di conteggi, è organizzato per farli, ha dei programmi specifici, elaborati bene, inserisce tutti i dati dentro e il computer dice siamo dentro o fuori usura. Questo nelle situazioni complesse che durano da anni e che quindi non possono essere risolte se non dall'esperto, non sono capace neanche io, vado apposta da commercialista. Ci sono i periti di cui voi... Ma delle indicazioni si trovano già su Google, ci sono dei programmini che si trovano, non è un problema, che danno già una prima indicazione, è chiaro che se si vede che si è in una situazione incerta, si va dall'esperto, se si è dentro si sta tranquilli che non si è vittime di nessun reato, si si va fuori e si va dall'avvocato a far fare la denuncia. Denuncia. Qual è il confine tra la denuncia di un reato che si può risolvere di un contenzioso in sede civile e invece quando c'è proprio un reato con risvolti penali? Cioè come faccio a capire in che ambito mi trovo? Se siamo nell'ipotesi dell'usura, vale a dire che civilisticamente si fa la causa, si fa opposizione al decreto ingiuntivo, se questo è il momento in cui una persona si decide a far fare i conti. Se siamo nell'usura, non è che ci sia una usura civile o una usura penale, la usura va sotto i due punti di vista. Raramente si fa la denuncia alla banca perché vi è una certa remora della gente a farla, ma in realtà potrebbe farla benissimo. Io posso capire, perché mi metto magari nei panni, uno quando ha una situazione di questo genere fa causa per due motivi, o non pagare quello che la banca richiede o avere un risarcimento, quindi non è che ha interesse di fare una causa per cui, non so, il direttore X piuttosto che il direttore Y, in una interpretazione magari anche banale, vada in galera, eccetera. Invece perché sarebbe importante, visto che lei ha detto c'è una certa remora a fare denuncia, perché sarebbe importante avere il risvolto penale? Perché una sentenza può fare giurisprudenza? Sì, posso fare giurisprudenza perché se il caso è semplice, se la usura è chiaramente dimostrata, il giudice non fa altro che rimettersi a quello che gli dice il perito, neanche l'avvocato. Il perito dice siamo nell'usura, benissimo, c'è la condanna. Il problema è questo. Anzi, quali sono i vantaggi nell'entrare nella stanza del giudice benale? Sono questi. Innanzitutto io consiglio di fare un esposto e non una denuncia. Esposto significa far presente con un determinato atto alla Procura della Repubblica che sia in corso in questa situazione e si chiede che sia il Procuratore a individuare il responsabile da una parte e valutare se effettivamente vi sono i presupposti. Che si apre un fascicolo di inchiesta. Esatto. C'è anche il problema di individuare il responsabile, perché non è detto che sia il direttore della filiale che apre il conto, perché in effetti il direttore è un dipendente a livello più o meno elevato sotto un profilo così di carriera, diciamo, ma a chi va il vantaggio di un eventuale usura? Va alla banca, non a quel direttore. E quindi si fa l'esposto contro il consigliere di amministrazione? Si fa l'esposto ed è la Procura della Repubblica che individua il responsabile. Potrebbero essere anche tutti i consiglieri di amministrazione se sono quelli che hanno deliberato quel tipo di mutuo a quelle condizioni contrattuali. La mia non è un'interpretazione goliardica. Si va in cerca del responsabile, ripeto, anzi non è il direttore. Ma quante situazioni lei ha trattato di questo genere? Perché poi adesso necessariamente io penso a Veneto Banca e alla Banca Popolare di Vicenza, che poi sono situazioni abbastanza complicate. Lì che cosa è successo? Da un punto di vista legale, se ci può aiutare a capire, perché si parla di clienti truffati, si parla di consiglio di amministrazione che ha comunque, per cui ci sono delle inchieste in corso e sono inchieste penali ovviamente con esposte della Procura. Ci fa un po' capire? Ma ecco, innanzitutto dobbiamo uscire dal tema di cui stiamo parlando adesso, lo faccio senso con me. Sì, si proprio voleva una sua opinione da esperto. Il problema è l'acquisto di azioni di una banca, acquisto che viene... Cioè cos'è la truffa in caso si può ravvisare? Nelle denunce che ho fatto io, depositato in Procura di Padova, è stata ravvisata la truffa come capo di imputazione. Poi si andrà in dibattimento, ci sarà una sentenza, diranno se c'è o non c'è la truffa, però la Procura di Padova l'individua come truffa. Il caso a cui mi sto riferendo adesso, ma non è l'unico, è quello in cui il direttore di banca sollecita, in qualche modo impone, diciamo così, l'acquisto delle azioni della banca che lui rappresenta, quale condizione per poter accedere a un finanziamento di importo relativamente superiore, ma anche di poco alla somma che viene investita nell'acquisto di queste azioni. Azioni che purtroppo sappiamo che fine hanno fatto e quindi si crea il problema di valutare se questo tipo di azione possa concretizzare il reato di truffa. In questo caso però il responsabile del reato è il direttore e non è la banca, perché il direttore che materialmente dice, comperami 8 azioni, in cambio ti do il mutuo. Scusi, le inchieste che stanno invece coinvolgendo, penso alla Banca Popolare di Vicenza, penso ai vertici dal Presidente e altri che sono attualmente indagati, proprio credo per truffa. In quel caso l'accertamento e l'indagine in corso sono stesi anche alla Banca d'Italia, perché quella situazione di decozione, cioè una banca è una società. Non devono essere soggetti ai controlli di garanzia? Devono esserlo, magari i controlli sono stati fatti e magari chi ha fatto i controlli ne non aveva fatti come doveva farli. È la procura che lo accerta e se vi sono responsabilità, in quel caso rispondono a titolo di concorso sia gli accertatori, gli ispettori della Banca d'Italia, sia quegli organi della banca che hanno causato una determinata situazione. Una banca è una società che come qualsiasi altro imprenditore svolge attività imprenditoriale. Quindi fa delle speculazioni. Che possono essere legittime, borderline e illegali. Se in buona fede o in mala fede è proprio la procura che deve accertarlo. Ecco, ma parlando sempre di reati penali relativi a contenziosi bancari, situazioni di questo genere, perché poi oggi parliamo di quelle che interessano il nostro territorio, però sono state nelle banche toscane, ne abbiamo sempre visto che hanno riguardato anche grandi istituti di credito. Che cosa succede? Qual è l'inghippo che poi fa sfociare nel reato? Proprio per dare anche un così, per far capire a chi ci ascolta, perché poi diventa abbastanza facile dire ecco, alla fine le banche sono un elemento fondamentale del sistema economico. Certamente. Non esiste impresa senza banca, non esiste banca senza impresa, è una specie di circuito necessariamente. Allora che cos'è che va in tilt all'improvviso? Indubbiamente ci può essere la mala fede di alcuni personaggi, però perché sono saltate determinate banche così all'improvviso? Questo è il segnale evidente che la nostra economia è molto ammalata, è molto ammalata e conseguentemente c'è un po' anche uno scarico a barile e poi ovviamente bisogna individuare un caso dall'altro, non si può fare un'unica valutazione. È un segnale estremamente negativo per la nostra autonomia e per la nostra economia, perché non sappiamo avanti questo passo dove si va a finire obiettivamente, perché le banche possono anche fallire, fallite le banche e chi ha i propri risparmi inseriti dentro, nei propri conti, adesso io non voglio fare previsioni così negative. Il bail-in in qualche modo è una legge che è stata fatta in fretta per cercare di dare anche all'opinione pubblica un'idea di dire che interviene il governo e risolve i problemi, non sappiamo se li risolverà o meno. Qua non è questione di politica, è questione di meccanismi finanziari, è questione di situazioni che vanno vagliate volta per volta e vedremo anche nel futuro cosa succede. All'orizzonte le nuvole non sono sicuramente rassicurati, nell'ipotesi ad esempio che vi sia il cosiddetto Brexit, cioè l'uscita della Gran Bretagna dalla comunità europea, non sappiamo cosa succederà, ma non lo sa a nessuno, non è che non lo sa io. In questo momento, proprio per questi meccanismi finanziari complessi che determinano contenziosi che possono avere risvolti penali, i clienti che si rivolgono a lei, io parlo proprio all'avvocato che si trova a dirimere queste situazioni, che cosa evidenziano, cioè con che contenziosi arrivano? Poi quando arrivano da lei, per l'aspetto penale vuol dire che siamo in una fase grave, che cosa emerge, che cos'è che non funziona, che non va, a cui bisogna stare attenti di modo che avere anche la consapevolezza che siamo in un ambito penale. Direi che la risposta è abbastanza semplice, torniamo a parlare. Si chiudiamo la parentesi, la riflessione, l'opinione, era doveroso insomma affrontare un, per fare anche un po' di chiarezza, no? Perché... Generalmente succede questo, il problema nasce o perché arriva un decreto inciuntivo o perché il cliente vuole andare a fondo sui propri rapporti con la banca, quasi sempre va dall'avvocato civilista, il quale apre, per così dire, una fase di accertamento, di valutazione, eccetera. Se il collega civilista mi fa presente che il suo perito ha individuato l'esistenza concreta dell'usura, gioco fatto, devo limitarmi a stendere... D'Amblè diventa reato penale. Sì, poi sarà la procura a valutare se il perito, se il nostro perito ha fatto la perizia... Però D'Amblè ci sono le premesse per un esposto in procura. Beh, le premesse ci sono senz'altro ed è opportuno anche farle perché appunto fare l'iniziativa, intraprendere la strada anche penale, non in alternativa, anche penale... Ecco, perché è opportuno anche... Perché l'accertamento del reato dà luogo, in ogni caso, alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni morali, cosa che difficilmente potrebbe fare il giudice civile. Il giudice civile guarda i numeri e fa la sua sentenza all'aspetto penale. Diciamo, i danni morali sono quale conseguenza di un reato? Quindi a lui serve l'accertamento del reato, la costituzione di parte civile e quindi in questo caso puoi chiedere il ristoro di questa forma di danno. Io le chiedo due minuti di pazienza, diamo spazio alla pubblicità, poi torniamo a parlare proprio nel merito del reato penale, dei risvolti e del perché vale la pena presentare una denuncia penale. Tra pochissimo, grazie. Siamo tornati in studio con noi questa mattina, l'avvocato Giorgio Destro del Foro di Padova. Stiamo parlando del rapporto con le banche nel caso in cui ci possa ravvisare l'usura bancaria oltre alla causa civile sarebbe buona cosa fare anche la causa penale, però lei avvocato prima di andare in pubblicità ci stava spiegando quali sono i vantaggi della causa penale nel momento in cui uno la vince perché il reato di usura bancaria viene riconosciuto, può avere anche il riconoscimento di quelli che possono essere i danni morali e tutto quello che è relativo ad una sentenza di carattere penale che magari invece in sede civile ovviamente uno ha semplicemente risarcimento o ottiene di non dover pagare quello che gli è stato chiesto con un decreto ingiuntivo oppure essere risarcito di quello che gli è stato sottratto indebitamente. Lei però evidenziava che non c'è voglia di fare denunce penali, questo perché? Perché costa, perché fare causa comunque costa, perché questo è un elemento anche che poi blocca certe azioni o perché non sempre è così scontato che si rischia magari di perdere e pagare le spese legali? Io mi metto dalla parte del cliente. Diciamo che non è proprio così e lo spiego anche perché fare una causa civile ha dei costi piuttosto, oggigiorno, piuttosto elevati, ma non tanto per l'aspetto degli onorali dell'avvocato, ma proprio per il cosiddetto contributo unificato che è super spesso e frequente a seconda degli scaglioni di riferimento in 1000 euro, cioè per iniziare una causa bisogna andare al cancelliere a portare una marca con scritto 1000 euro. E uno che ha un decreto ingiuntivo, non so come dice, ma qui mi si prende anche in giro un po'. Questo è il primo problema. Secondo, una causa civile si può vincere, si può perdere, se si perde, oltre ad aver già pagato i 1000 euro e gli onorali dell'avvocato, deve pagare anche il controparte. Nel penale fortunatamente non ci sono manche da bollo e conseguentemente ci sono solo gli onorali dell'avvocato. Per di più, se una persona è in grado di gestire a un certo livello culturale, una denuncia può farsela anche da solo, basta andare dai carabinieri, dicendo, io ho questo contratto, questa è la situazione accertata dal commercialista. Ecco, serve sempre per un accertamento da parte di un perito, non è che uno può dire che mi dà l'idea e vado a fare un esposto. La procura apre il procedimento quando ha degli elementi tali da ritenere fondata, poi lo verifica. Però ci devono essere degli estremi. Quindi non c'è il pericolo di perdere una causa penale. Cosa significa? Significa che viene assolta la persona nei cui confronti si è fatta la denuncia, ma non ci sono danni economici. Quindi nel momento in cui uno non fa la causa civile, tanto vale che faccia, se ci sono ovviamente gli estremi, faccia anche quella penale. Il fatto è questo, bisogna vedere caso per caso. Se arriva un decreto ingiuntivo, l'unico modo per bloccarlo è fare l'opposizione al decreto ingiuntivo, vale a dire atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo e quindi andare dall'avvocato perché è necessaria la figura e andare in tribunale. E quindi è costretto a fare in ogni caso l'azione civile, l'azione penale viene in un secondo tempo, talvolta anche come mezzo di pressione perché effettivamente si può sempre raggiungere un accordo tra banca e cliente e questo influirebbe notevolmente nella valutazione che il magistrato penale fa relativamente al comportamento della banca, perché se danno viene risarcito si può arrivare tranquillamente a una situazione favorevole e addirittura anche alla soluzione. Quindi talvolta si usa la strada penale come elemento di pressione. Ma c'è di più, qual è il vantaggio anche di un'iniziativa penale? Che adesso, proprio con la legge di cui parlavamo prima, la 108 del 1996, è ammessa la costituzione di parte civile da parte di associazioni di consumatori. Questo che cosa significa? Significa che se, e questo apre la strada la cosiddetta adesso di moda, class action. Sì, infatti. Perché adesso oggigiorno si parla di class action. Sì, poi anche noi andiamo un po' a seguire le mode, no? Sì, non è questione di moda, è questione che si sta evolvendo, è normale che sia così. No, no, moda nel senso che anche da un punto di vista emotivo, il voler fare delle azioni piuttosto che altre, nel momento in cui senti che comunque c'è un'azione corale, ti senti più in forza, no? Si ha più forza, l'unione fa la forza, vale anche nelle cause. Vale anche in tribunale. Anche in tribunale. Quali sono i vantaggi? Indubbiamente tutti quegli associati dell'associazione di consumatori, che deve essere comunque un'associazione riconosciuta, non tutte possono fare la... Beh, questo però lo si sa, c'è un elenco, basta ogni... Sì, sì, beh, chiaro. Ci sono certificate, eccetera. Scriversi l'associazione di consumatori, ce ne sono. E questo dà il vantaggio, intanto di dare una certa... Di far attirare l'attenzione dei consumatori, non solo degli associati, ma anche degli altri, ma anche e soprattutto dei media, dell'opinione pubblica. Si sensibilizza alla società. Quello, dicevo, moda in questo senso, nel momento in cui magari vado in banca o firmo qualsiasi tipo di contratto, leggo un attimo, oppure vado quel contratto stesso all'associazione dei consumatori, che hanno comunque degli esperti e mi dicono, guarda, è meglio che ti rivolgi al commercialista, all'avvocato, insomma, sono sempre strutture preventive, no? La logica è anche che è un sistema di prevenzione, nel senso che se c'è una banchetta, diciamo così, piccola, che ha questo tipo di atteggiamento e che con disinventura applica interessi usurari, nel momento in cui si fa l'azione penale, oltre a quella civile che dicevamo prima, lo sanno tutti. In questo momento poi banca piccola non sembra più tanto bello qui in Veneto. E sono in continua evoluzione, si associano tra di loro, non si capisce più. Fino a un anno fa, guai e grandi colossi bancari che sono degli speculatori, eccetera, oggi, oddio, attenzione alla piccola banca, non... E che magari sono le più sane, perché sono amministrate da persone più responsabili, più oneste, magari con una certa operatività locale e che quindi si sentono gli occhi addosso dei vari clienti, mentre una banca importante che ha sede in qualsiasi parte, non mi citava... No, no, certo, però è vero anche che questa banca che doveva essere una tutela, se i fatti a cui stiamo assistendo sono verificati e sono confermati, questi personaggi che dovevano essere garanti a un certo punto non lo sono più stati, sono stati garanti solo dei propri interessi, insomma, forse, sa, poi il comportamento umano è imprevedibile sia per i grandi che per i piccoli. E con i tempi che corrono ancora peggio. Eh sì, perché purtroppo c'è una situazione economica che... Quindi il vantaggio sta appunto in questa ipotetica class sexo che vedrà che fra poco ne nasceranno, perché poi la gente... è una questione anche di ignoranza delle persone. Ma non si dice che l'ignoranza della legge non è ammessa? Sì, beh, ma sotto altri punti di vista l'ignoranza della legge non è ammessa, perché uno non può dire, io non sapevo che rubare non è un reato. No, cioè, la mia era una provocazione. Senta, lei ha, tornando, so che la sto portando fuori da quello che voleva essere il nostro, però, insomma, l'importanza di quello che sta succedendo in Veneto non mi esime dal farle questa domanda. Ci sono degli azionisti, delle banche che in questo momento sono in difficoltà, che si sono rivolte al vostro studio, che stanno pensando una crack section. In quell'ambito lì del recupero dei soldi investiti in azioni che oggi praticamente si sono svalutate, anche se tutto è ancora da definire, perché fino ai prossimi giorni, che non si sa se Veneto Banca sarà ricapitalizzata, allora a quel punto non si sa se Vicenza e Veneto Banca vengano prese dal fondo Atlante, fagocitate, insomma, abbastanza la storia è nota, no? E quindi capire qual è il destino è tutto in fieri. Ci sono degli azionisti che sono rivolti da voi? Che margine c'è per un'azione legale in questo senso? Ci sono azionisti che si sono rivolti al mio studio, io li ho anche indirizzati alla collega che mi ha preceduto, l'avvocato Pomaro, perché io parto sempre dalle valutazioni civilistiche, quello è il punto di partenza. Quindi il primo step è civilistico, se il civilistico mi dà la strada per essere tranquilli, che vi è anche un reato, ne vedremo delle belle secondo lei? O è talmente la situazione... Belle o brutte? Dipende dal punto di vista, belle nel senso così... No, ma la situazione è ancora confusa anche in quello specifico. Francamente non so che evoluzione ci sarà, ma non lo so io, non lo sa nessuno. Un'altra, un'ultima domanda. Lei diceva quando arriva il decreto ingiuntivo, questi decreti ingiuntivi sono sempre legittimi o vengono fatti quando proprio non c'è altro margine o c'è una tendenza a farli troppo spesso e rapidamente? I decreti ingiuntivi, sappiamo, sono emessi dal Presidente del Tribunale, il quale li emette dopo che ha valutato la fondatezza di quello che scrive il ricorrente. Semmai c'è da chiedersi se le banche necessariamente debbano ricorrere a questa iniziativa o se sarebbe più auspicabile nell'interesse del proprio cliente e della collettività proporre situazioni che evitino il contestuzioso giudiziario. Però gli metto anche un po' nei panni della banca, se ci sono tanti clienti che sono diventati insolvibili, cosa devono fare? Ma sono valutazioni che ogni banca fa in modo diverso. Ma sulla base ovviamente delle persone che lei assiste, cosa vede? Che c'è un atteggiamento che è più facile andare al decreto ingiuntivo ogni volta che ce n'è la possibilità, piuttosto che cercare un dialogo? C'è un atteggiamento di questo genere? Il punto è questo, che talvolta il decreto ingiuntivo che fa la banca si trasforma in un boomerang, perché come è stato detto la collega, costringe chi lo riceve ad andare dall'avvocato per chiedere cosa devo fare, l'avvocato gli dice portami i contratti che vediamo se i conti li hanno fatti bene, se c'è l'usuro, se c'è l'anatucismo, se ci sono situazioni... Quindi non tutti i mali vengono per noi. No, potrebbe trasformarsi in un boomerang. Quindi credo che una banca accorta che abbia un ufficio legale responsabile nei confronti del proprio cliente, cioè la banca, valuti bene prima. Talvolta stranamente non fanno questi accertamenti e da 100 mila euro che è successo, che richiedono col decreto ingiuntivo, non solo non li prendono, ma devono dargli neanche indietro. Io ringrazio l'avvocato Giorgio Destro, ringrazio voi per averci seguito, subito dopo la pubblicità, altro ospite, altro argomento. Grazie.